Ciao a tutti ragazzi, io sono Gekwan, bentornati nella Square Survival Sto cuocendo ancora il charcoal, ormai ho la cesta piena, non so cosa farmene, ma chi se ne frega Signori, bentornati nella Square Survival Allora, aggiornamenti, principalmente, no, nel senso che ho tirato via gli alberi perché mi sono stufa Volevo riproporvi i classici oak che ci fanno maledire perché ormai di sti qua vecchi, sti qua bianchi, sono stufo, comincio ad averne abbastanza Ho solamente tolto, praticamente, qua, un po' di... ho riempito il vuoto qua, ecco, con le slab Perché oggi, signori, andiamo a fare uno degli achievements per quanto riguarda il discorso del farm di cibo Allora, per la precisione, quella, ricordante, il grano, perché dopo loro mi dicono di fare grano, carote e patate Ma dovrei rifare lo stesso, lo stesso spawn, lo stesso macchinario, praticamente, tre volte, sinceramente, ne basta una Anche perché dopo, una volta che tiro sulla roba, dopo posso ripiantare le carote, anziché il grano, per cui non cambia niente Mi sono già preparato, signori, tutto quello che ci serve, il materiale è qua dentro Per la precisione, due pistoni, un po' di terra, il vetro va bene, anche quello normale, ma volevo fare il figo, sono andato a fare gli scambi E ho voluto questo light grey Due pressure plate, un po' di reston torch, della redstone, una leva, dei dispenser che servono per far sparare, praticamente, il bombial E la stone per, credo, fare un livello sopra Allora, questo qua non è un mio design, l'ha fatto un youtuber americano, praticamente Vediamo se sto giro riesco a lasciarvi il link in descrizione, roba che non riesco a fare mai, praticamente Perché dico sempre che vi lascio in descrizione il link del video dell'autore che ha fatto sta cosa Ma non succede, praticamente mai, per cui, signori, direi che a sto punto sposto leggermente le cose per far spazio a tutte queste qua Perché adesso sicuramente non ci sto più Ho interrotto la farm di mucche perché, sensi di colpa, signori, principalmente Mi dispiace per quelle poverine che vengono bruciate Però non mi dispiace per le galline Perché le mucchette stanno qua, le galline stanno qua a bruciare E' lenta, è lenta, è lenta come la fame, non so perché Comunque, signori, bentornati nella Squad Survive Prima di cominciare andiamo a dare un occhio al nostro spawner, praticamente Nostro fantastico spawner Buongiorno, che ho svuotato poco, poco fa Perché era pieno, cioè, è pieno di gunpowder dei creeper E' una cosa allucinante, cioè, non avete idea di quanti Ecco, guarda quanti creeper vengono giù Cioè, tre scheletri, otto creeper Non lo so, praticamente, è un mistero Tutti con l'armatura e tutti che vanno a bruciare Vabbè, rumori che non si può sentire Perché comunque quando si mettono a urlare in duecento Sti qua, capisci più volte Ciancio le bande, bando le ciance, signori Comincia il nostro tutorial Ora, togliamo le torce perché E' sponato uno zombie l'altra notte qua dentro Nonostante ci fosse luce everywhere Allora, andiamo a prendere Tutto quello che ci serve A sto punto tolè in tutto e vaffanculo Noi cominciamo mettendo Un pistone rivolto in questa posizione Qua, praticamente E un altro alla stessa maniera Due blocchi separati uno dall'altro Adesso non so se considerava anche Il fatto che ci fosse la fence Perché nel suo layout non c'erano le fence Ma chi se ne frega L'è tanto una farm Posso anche farla tranquillamente Con pochi blocchi di terra E lo stesso Allora, noi prendiamo dopo la dirt E li la mettiamo in questa maniera qua Lasciando però un spazio vuoto Perché cosa succede? I nostri pistoni Il loro scopo di sto grinder Di, appunto, di cibo È che tramite l'utilizzo della redstone E delle pressure plate Di, se noi spostiamo fisicamente Tutto il blocco di terra Da un posto all'altro E questo fa inadvertitamente Saltare tutto il Tutto quello che c'è sopra Per cui se c'è roba Tipo grano Patate, cotte Cipatate Tutto quello che volete Praticamente le fa fisicamente spostare E noi ci mettiamo qua E non facciamo altro che Prendere sulla roba Sostanzialmente lo spawner Ho spiegato male Come al solito Ma la logica dello spawner È questa Allora, adesso noi dobbiamo Fare altro che fa All'intorno Il Il contorno di vetro Praticamente Ne ho anche scambiati troppi E mi sono dimenticato Dei secchi d'acqua Perché bisogna chiaramente Idratare il terreno Dov'è il secchio? Ci sono secchi Un secchio Un secchio Voi buttei Vedete secchi? Non vedo i secchi Che cazzo sono i secchi? Allora, già qua Nelle orbo E non vedo i secchi Ho perso i secchi Ma sono stupido Vabbè Adesso no Adesso scusate Questa qua Questa è una cosa impossibile Perché Ce l'avevo fino allo Scorso episodio Ok Allora Non si sa Perché Che cojoni Allora Due, tre Dove ancora cuocere Bisognerà fare un episodio Di cottura Di sistemamento Ma perché sistemamento? In sistemazione c'è Signore Perché purtroppo Jack-Wan È È disordinato E su Vabbè È qua che i zombini Che spuono Dov'è la fonte d'acqua infinita? Qua una volta C'era la fonte d'acqua infinita Ma l'ho spostata Guarda che posso Fa paura Signori Ora Mi manca l'acqua infinita Ma vado a prenderla da qua Vabbè Ma Io avevo l'acqua infinita Ma Jack-Wan Perché non ti fai l'acqua infinita? Ma cazzo Con i cactus Con l'acqua infinita Vabbè Ma sei idiota Signore Scusate Jack-Wan Non entra nella squadra Da un bel po' Praticamente Dobbiamo essere Dobbiamo prenderne atto Signori Che non entro nella squadra Sul rival Da un bel po' D'altra parte Signori Ci sono tante serie In movimento E a Jack-Wan Piace Farsi del male Tipo adesso Praticamente Piace farsi del male E ovviamente Dopo si dimentica Le cose Allora Riempiamolo Con l'acqua Ok Tutto riepito d'acqua Adesso mi serve Una vanga Che ovviamente Jack-Wan Non si è preparato Perché io mi sono preparato Tutto meno che la vanga E meno che l'acqua E il concetto Basi di agricoltura Ma andovai Se la vanga Non ce l'hai Dicevo una canzone famosa E comunque Jack-Wan Non si va Non so Adesso noi Facciamo L'idratazione Che si idrati Tutto il nostro Caro terreno Adesso passiamo Alla fase Numero 2 Allora La fase numero 2 Principalmente Consiste Nel mettere I dispenser Se non erro Praticamente Dove sono i dispenser? Sono qua Noi prendiamo I dispenser E facciamo Così Dobbiamo farli Venire Da Cioè Che Che stiano in avanti Praticamente Per cui Come faccio? Perché non mi Si distrugga Tutta la cosa Così Dopo tanto Spacco Per qui Si vabbè Metti i blocchi Come Cristo comanda Non ce la faccio Allora Mettiamo tutti i dispenser Qua Perché praticamente I dispenser Signori Non faranno altro Che sparare Il nostro caro E amato Buon meal Su questa fascia Di terra Inizio che la fema Spiegarlo Praticamente Per cui Bisogna metterli Così Adesso spacchiamo Qua Che non ci serve Più Il passo Successivo Sarebbe quello Di metterci Le Redstone Dietro Praticamente Cioè ci mettiamo Le redstone Così No aspetta Premi shift Vai in là Shift 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 Perché bisogna Attivarle Dopodiché Serve Dei blocchi Per Far da Conduttore Può essere Una roba del genere Si Per far da conduttore Può essere che Stia sbagliando L'ordine delle cose Sicuramente Si vabbè Cioè qua Shift Che salve Screenshot Ok Ok vedete che No aspetta Deve essere così Noi lo riempiamo Fino sopra Dopodiché Dovremmo fare Che ci Perché sta laggando Adesso Minecraft Mistero La fede Ci mettiamo La redstone Dust Sopra Dopodiché Mi sembrava Che andasse Anche Qua No aspetta Forse ho sbagliato Qualcosa Avevo fatto Quasi tutto giusto Solo che la redstone Non va qua sopra Ma va Qua Ok E adesso comincia A fare Tick e Tick Fastidiosi No Perché teoricamente Dopo qua Spara fuori Il bombial Per interrompere Sto fastidioso Tick Signori Noi non facciamo Altro che Prendere Una leva Metterla qua E loccare Tutto quanto Praticamente E Teoricamente Dovremmo esserci Nel senso che Ah no Il cazzo Che cazzo Dico Aspetta Il cazzo Il pressure plate Signori Pressure plate Solamente perché Noi ne mettiamo Una qua Ne mettiamo Facciamo il coso In modo da Che quando ci andiamo sopra Spinge il blocco E dopo finisce Stesso discorso qua Mettiamo la Mettiamo la pressure qua E mettiamo il coso qua Per cui Adesso vedete che Facendo così Spinge il blocco E dopo Io faccio In davanti Indietro E sposto La terra Ok Ok Ora Teoricamente Noi non dobbiamo Fare altro che Adesso Vifuveda Riempiamo Vabbè Ho preso Troppi materiali Comunque Cioè Come al solito GQan Riempie Per essere sicuri Meglio Troppo Che Che Mica Come si dice O Fedez Ok Smetto Queste battute Perché Non fanno ridere Allora GQan Mettege E il buon meal In tutti quanti Praticamente Sì Mi metto il secchio Ma sai che bello Si mi spara il secchio Ok Ora qua c'è Qua c'è Qua c'è Qua c'è Qua c'è E qua C'è Ok Adesso noi mettiamo Giù i sapling Sì i sapling I semi Non ce la faccio Ok È scuretto Però qua Vabbè Non vorrei che ci spawnassi la gente Andiamo a dormire E Save screenshot Perché salvo i screenshot A caso Premendo a caso Praticamente Scusate Come sta andando 49 Aumenta Le uova Non aumentano Le galline Vabbè Le stesse Adesso L'unica cosa Che dobbiamo fare Principalmente È Attivare Il Figa qua Praticamente No Se noi adesso Facciamo Tutto così E dopo Merda Sì magari Fish È buon meal Tutto così Tutto così Tutto così Dopo noi Arriviamo a fondo Arriviamo a fondo No Ok Arriviamo in fondo Dai Mamma C'è qua Un agricoltore Non si può vedere Guardate che roba Il concetto è questo Signori Andiamo sulle pressure Ci spaccano i blocchi E dopo Non faccio altro Che ripiantare Tutto quanto Vado di nuovo Sui blocchi Prendo Magari Metti giù Consuma un botto Di buon meal Perché signore Se non stiamo attenti Qua Se non stiamo attenti Quando ci scappa qualcosa A tornare indietro È la morte Praticamente E quindi signori Il concetto è questo Ok Ok In questo caso Abbiamo fatto 42 Di Di grano La potete fare Più lunga Per carità Non cambia niente E qua Nei dispenser Ma Beh dai Neanche tanto Comunque Anche perché Giustamente Il dispenser Adesso che ci penso Non mi può sparare fuori Il buon meal Se il terreno È già Con la coltura Praticamente Per cui Non è che me le spara A vuoto Oh Per cui questa cosa qua Funziona Bene Allora Se non riprovo L'ultima volta Riprovo L'ultima volta Allora Lui non ne spara Più fuori Finché Ce ne sono Finché Sono cotte Sì cotte Non c'è la fox Finché sono cresciute Lui non ne spara fuori Soprattutto Vabbè che La pressure plate A questo punto Potevo anche Non metterla Che tanto lo stesso È ovvio che Guardate come Fa lagare minecraft Sta roba Perché D'altra parte Si preme Si rimette giù Si si lagga tantissimo Com'è strano Comunque che laghi Perché comunque Dai Eh si ci mette un bel po' Vabbè Signori Questo è il concetto Della Farm di grano Jack one Spiegata Da cani Ovviamente Quanta ram Sta usando Beh Ma non sta usando un cazzo Vabbè La stessa Mettiamo via Tutto Mettiamo via Album mia Mettiamo via Coso Ci teniamo Solamente Vabbè Quello che Adesso volevo Ripiantare gli alberi Vabbè Allora Detto questo Signori Questa è la farm Completata Adesso Dove sono le torce Prendiamo le torce Mettiamo giù Delle torce Perché qua Che è scuro A bestia In teoria Se metto le torce Sopra Non dovrebbe essere Un problema Giusto Perché dopo Quella gente Ci spona Tutta la vita Ok Ok Adesso noi Andiamo Con gioia E con umiltà A prenderci Il nostro Achievement Praticamente Nella nostra quest Completata Laga minecraft Mistero Laga minecraft Vabbè Allora 8 giga di ram Del computer Laga minecraft Mistero Diciamo ancora Mistero E L'achievement Di carla È ancora Buggato Per cui Non voglio Darmi altri Livelli L'automatizzata Questa qua Riguarda solamente Il discorso Dei pump king Delle zucche Dei meloni Che dobbiamo Quora fare Abbiamo La semi Automatica Signori Che sarebbe Fai la semi Automatica Di grano Grano Potate Vabbè O redstone Ah perché bruciano Le streghe Giustamente Mettiamoci qua Con gioia Con rispetto A guardare I nostri Ma guarda Quanti creeper Vengono giù E si riempie Le chest Di roba Cioè Di gunpowder Guardate quanti stack Di gunpowder Non so Cosa faccio Vado Sulla isola Della sabbia E faccio Una farm Di TNT Cosa Cazzo Me ne faccio Di TNT Comunque Le stesso Signori Sono Gekwan Grazie per aver visto Quest'episodio Di lascora Survivor Se il video Avete piaciuto La sua Noi Condividetelo Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao ragazzi